Non spetta a voi Le grandi profezie sul futuro dell'umanità Amadeus Volven a cura di Bubi Mediterranei Ramatis Non spetta a voi giudicare il lavoro degli esseri umani Desidero solamente evidenziare il quantum di rinuncia e lavoro che gli umili offrono per il bene altrui È ovvio che avrà più meriti davanti a Dio la vecchia nera che perfino si rovina nel suo lavoro domestico per prestare servizi di amore al prossimo attraverso la cura o il parto gratuito piuttosto che la donna che solamente fa lo stesso in cambio di buone remunerazioni Però non dovete esagerare troppo questo concetto del dare di grazia gratuitamente quando lo applicate esclusivamente per giudicare il prossimo considerando che avete ricevuto di grazia i doni che il Padre creò dato che Egli è il vero donatore della vita Tutti voi siete pieni di questi doni Occhi, mani, orecchie, gusto, olfatto e tatto Sono doni che il Padre vi concesse per la crescita spirituale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti